Ci sono famiglie che hanno immediato bisogno di pagare le bollette, la rata del mutuo, fare la spesa, insomma cose da famiglie. Ecco, io vorrei dare la disponibilità, almeno per i prossimi 5-6 mesi, a coprire un po' di queste spese. Così lo spot della campagna Un Euro a Famiglia della Fondazione Forum Associazioni Familiari, in sinergia con il progetto della Conferenza Episcopale Italiana Rete che Ascolta, promosso dall'Ufficio Nazionale Pastorale Familiare. Idea partita da una lettera che una dottoressa ha scritto, offrendo un contributo dal suo compenso extra ricevuto per la pandemia. Molti altri camici bianchi l'hanno seguita con entusiasmo. Si può far sì che magari una famiglia possa pagare quella bolletta che è ormai scaduta, piuttosto che il mutuo, piuttosto che fare la spesa. Insomma, con un semplice euro si può cambiare il futuro di una famiglia. Credo che sia un gesto d'amore per il futuro del nostro paese. Tutti possono contribuire, basta un euro a famiglia. L'idea non è solo raccogliere soldi, ma costruire una rete di sostegno che incoraggia le famiglie a intessere legami. Chiediamo a tutte le famiglie italiane, in una sorta di azionariato popolare delle famiglie, di dare un euro al mese, un euro a settimana, un euro all'anno, quanto vogliono, per cercare di aiutare famiglie del ceto medio in difficoltà perché non riescono a pagare la rata dell'affitto, la rata del mutuo. www.fondofamiglie.org, il portale di riferimento sia per chi vuole donare che per chi ha bisogno di aiuto. Testimonial, l'attrice Beatrice Fazzi. Partecipiamo tutti. Dona anche tu.